Ciao a tutti ragazzi, oggi è il giorno dopo la registrazione del Full Day of Eating and Training 4 Che dire ragazzi è stato un allenamento devastante Ma quanto sono contento, sono riuscito veramente a beccare una sessione stupenda Una sessione incredibile, a registrarla da inizio e alla fine In modo tale da potervela far vedere Per anche condividere proprio le emozioni che ho provato in questa sessione Allora innanzitutto è stata una sessione ancora meglio delle solide Perché ho già da alcuni allenamenti, ma in particolar modo proprio ieri Avevo già deciso di ricominciare ad allenare delle cose nuove Quindi comunque la sessione è durata 5 ore e mezza È abbastanza corposa, ci sono veramente tanti esercizi Ma soprattutto ragazzi, ieri c'è stata una resa veramente fenomenale in ogni cosa Sono soddisfattissimo, come ho detto anche nelle storie Instagram Non posso che dare 10 come voto a questa sessione Vorrebbe essere anche la sessione migliore che abbia mai fatto Quindi per farvi capire di quanto sono contento di averla registrata Voi avrete già visto alcune clip su Instagram Di alcune cose che sono proprio riuscito a fare per la prima volta ieri in questo allenamento Quindi ho già spoilerato alcune cose Ma adesso andremo a vedere tutta la sessione Ma sono contento in particolar modo Perché quelle cose che avete visto, insomma che sono riuscite a chiudere Erano allo stesso livello di altre cose che vedrete in questo video una settimana fa Quindi vicine insomma alla realizzazione Quindi potrete anche avere secondo me un quadro più generale Di quale la mia situazione sia in termini di forza ma anche mentale Perché ragazzi veramente capirete nel senso quanto mi sento esplodere questo periodo Cioè avrete il quadro completo di tutte le cose che sono riuscito a fare Che sono vicinissime o anche insomma di previsioni secondo me che si possono fare A livello numerico su certe cose Dato che avremo una sessione appunto da vedere In cui allento sia skill che zavorre che endoranze Quindi una sessione super completa Quindi ragazzi veramente non vedo l'ora A livello alimentare invece come vi avevo detto nel video della mia dieta Ho ricominciato anche a fare comunque delle colazioni Quindi anche per darvi un video un pochetto più sostanzioso Pure sotto quel punto di vista Ho deciso di non optare per il digiuno ma di fare appunto una colazione e una cena Detto questo quindi La colazione di ieri è stata Tre pezzi di rotolo con la nutella E già che ci siamo anche un po' di succo all'ace Il primo esercizio è la reverse planche a tempo Sette minuti alternando due alzate a venti secondi di riposo In questo caso sto usando come assistenza un elastrico ultra leggero E un ultra leggero rovinatissimo Giusto un millimetro di spessore E questo è un esempio di questo nuovo metodo a tempo che sto facendo In cui dopo aver maxato a rep singole Riaumento le assistenze aumentando per le ripetizioni In questo caso appunto suono due rep Continuo così finché riesco Poi rialzerò le assistenze e ricomincerò da tre rep L'approccio dopo invece è la plancia a una mano Con due lupendo ultra leggera e doppiamente ripiegate Sicuramente la plancia a un braccio più tecnica che abbia mai fatto E mi sto trovando molto bene a dare il massimo in esercizi unilaterali Per quel discorso della spalla che vi facevo in passato Sto allenando anche le versioni a due braccia Anche dell'Ares è lo stesso discorso Sto allenando anche le versioni a due braccia Ma quando devo spingere di forza Mi trovo bene a spingere soprattutto a una mano In modo tale da non rischiare di andare ad infiammare eccessivamente l'altra spalla Diciamo divido il lavoro pesante dal lavoro più tecnico e più leggero Poi ho a Callanello con doppio deadstop a tempo Sempre sette minuti alternando quattro ripetizioni per braccio a venti secondi di riposo Con quattro loop ultra leggeri Sembra molta come assistenza ma in realtà vi dico che non lo è Sia perché diciamo questo tipo di assistenza assiste soprattutto in partenza e quasi nulla in chiusura Ma perché quattro rep a tempo sono veramente tantissime E questo ripeto è un altro esempio di quel metodo a tempo che vi dicevo prima Qui appunto ho iniziato da singole e piano piano sono arrivato fino a fare quattro rep Andrò così fino a cinque rep e poi ricomincerò da singole sicuramente zavorrate Non vi ho detto ovviamente che per quanto riguarda la plancia di prima Ovviamente il metodo usato era il metodo del moltiplicatore E' così anche per l'esercizio che vedremo appunto dopo gli hoc che stiamo vedendo adesso a tempo Ed è praticamente un lavoro che faccio per il piegamento a una mano perfetta In questo caso lo faccio zavorrato La forma non è perfetta sono 10 kg Vado a eseguire un'esecuzione molto lenta quindi diciamo la serie si basa sul secondaggio Ma sebbene non sia perfetto è un'esecuzione che io diciamo mentalmente riesco a ricollegare a quella perfetta Come se cercassi di farlo il più dritto possibile E sebbene non riesco vado comunque ad avere un transfer molto forte Di questo ve ne darò comunque prova quando poi ripubblicherò la rep diciamo libera perfetta Vi posso assicurare che i miglioramenti veramente nella gestione del corpo e del gomito ci sono e sono veramente tanti Poi come avete visto nei video che ho pubblicato l'esercizio dopo sono le trazioni in back lever a una mano Per quanto riguarda Per come le ho in scheda dovrebbero essere il doppio dead stop Qui l'assistenza erano due ultraligeri singoli quindi molto poco Non c'era proprio un doppio dead stop ma come vedete erano delle rep abbastanza controllate Questa diciamo è stata la motivazione che mi ha fatto dire Senti oggi già che ci sto provo anche a farne diciamo svariate libere Sono andato per una serie diciamo a raffica ho detto voglio solo salire più volte che posso Voglio vedere se veramente ci riesco Dopo che ci sono riuscito ho fatto le rep più tecniche come avete visto appunto nel video che ho caricato l'altro giorno sui miei social Poi reverse muscle up a una mano archer con assistenza del mignolo dell'altro braccio Con due ultraleggeri doppi Anche questo è nato come diciamo in seguito a quel problema che avevo nella spalla Dato che era sempre un esercizio problematico per appunto infiammazioni e cose varie Ho deciso di cogliere la palla al balzo Dato che avrei dovuto allenare prima o poi con la mano di farlo con questo tipo di approcci In modo da diciamo concentrare il lavoro più sul lato diciamo sinistro Tanto dopo nell'esercizio successivo Che è la inverted butterfly sempre con due ultraleggeri doppiamente ripiegato Vado a fare un lavoro diciamo simmetrico In questo caso le rep erano leggermente bassine Però non è un problema perché comunque la gestione delle braccia è ottima rispetto al passato E' anche bello vedere che man mano che mi stanco divento orizzontale e salgo sempre di più L'altro esercizio molto bello che sto andando da un po' è il front lever to victorian ultralento In questo caso sempre quattro ultraleggeri singoli Anche qui l'assistenza sembra molta ma in realtà in questo tipo di esercizio è poca Peccato perché ho esagerato con la lentezza e mi sono verticalizzato alla fine Ho diventato più una pressa in CT ma comunque molto utile a livello di forza Ho provato delle races in CT con 55 kg in spesa supina Non sono andate e così ho detto vediamo se senza false grip riesco a tenere 5 kg E ce l'ho fatta come avete visto nel video Poi volevo ricominciare proprio ieri ad allenare gli stacchi zerker con un braccio Ho provato con 110 ho visto che lo sentivo comunque mi sono fermato lì Sono andato quindi a proseguire con dei cheat card con blocco sopra compresa sul polso Che per il tipo di mobilità che ho io a livello delle spalle mi tornano molto comodi Perché posso mandare i gomiti in fuori non ho il vincolo del polso E mi trovo molto bene a farci un lavoro di forza Poi primo giorno che ricominciavo e anche record assoluto sono riuscito a tenere Se non perfetto dato che bassi e schiena staccata dal palo 50 kg in isometria spalle E poi qui torniamo invece dopo tutti questi metodi del multiplicatore a un metodo a tempo Ossia 5 rep di streetcarl con 42 kg per 7 minuti in alternanza appunto a turni col mio amico Qui in questo caso non andiamo lockout perché diciamo è una parte di movimento che non dà molto a livello di guadagni di forza E per appunto cercare di gestire meglio tutti i minuti insomma a livello di ripetizioni Ci risparmiamo insomma quella porzione di movimento Dopo di questo anche questa cosa la faccio da due allenamenti Ho iniziato ad inserire delle ripetizioni priometriche In questo caso sono 40 kg Perché sono sia interessato a provare a sviluppare esplosività Diciamo un miglior reclutamento di fibre Che è sempre stata una cosa che mi ha comunque interessato come tematica Sia perché sento di voler dare al mio corpo una sorta di resistenza agli impatti Proprio anche a livello tendineo Quindi tutti questi diciamo ripetizioni esplosive con Diciamo riprendere il peso al volo e cose varie sono perfetti per questo mio obiettivo Poi sempre 7 minuti a tempo Alternandomi col mio amico Di trazione in tensione continua quindi non si va a braccia tese Con 51 kg 5 rep La ripresa è un pochino purtroppo svantaggiosa Ma vi assicuro che tutte le rep sono chiuse in alto E questa sinceramente è una parte dell'allenamento che mi soddisfa molto Perché non ho mai trazionato 50 kg in questo modo Nonostante appunto il calo di peso Continuerò a salire ancora spero magari per uno o due allenamenti E poi ricomincerò dalle singole Io insomma se la matematica non è un'opinione penso che ci sarà da divertirsi Sono poi salito direttamente a 20 kg nei muscle up a tempo Con false grip perché ho detto Voglio provare Se vanno con 20 spettacolare Se non vanno mi risparmio qualche minuto di fatica Ed è stato così diciamo resistito per 3 minuti e mezzo A fronte appunto dei 7 totali che dovevano essere Però comunque sono molto molto soddisfatto Perché li vedo veramente bene Considerare anche il punto dell'allenamento in cui sono stati fatti Dip a tempo 10 rep 46 kg Sempre 7 minuti in alternanza col mio amico Mi pare che qui mi mancasse forse un minutino di tempo Anche qui molto bene perché ripeto Da quando avevo avuto il problema alla spalla I dip erano proprio diciamo poco fattibili E un mese fa facevo questo esercizio sempre 10 rep libero Quindi per farvi capire senza alcun peso Inoltre c'è da dire che queste parallele sono molto molto svantaggiose Perché non solo sono basse ma tremano moltissimo E quindi in realtà anche qui Io penso che ci saranno molti riscontri interessanti Insomma appena sarà il momento di provare un vero e proprio massimale Anche qui con il metodo del moltificatore Ho aggiunto delle ripetizioni pliometriche Non fa niente se si slancia diciamo per come vedo io le cose in queste rep Perché è più appunto il discorso di spingere al massimo l'impatto e cose varie Questi sono 10 chili E appunto fatti praticamente subito dopo Perché eravamo un po' in ritardo delle altre ripetizioni Ci sta Trazioni a tempo 7 minuti Con 10 rep dead stop Alternate sempre col mio amico Anche queste le vedo molto bene Abbiamo fatto un periodo adesso di ripetizioni sempre in intenzione continua Abbiamo deciso di passare a questo tipo di trazione appunto In questo caso uso la presa larga per avere diciamo un stimolo un po' diverso Rispetto a quelle che faccio agli anelli E anche appunto perché anche per un discorso di resistenza Possono comunque tornare utili per fare un determinato tipo di set Anche in questo caso come i tip a seguito di questo esercizio Queste sono state chiuse tutte appunto per 7 minuti A seguito di questo esercizio ci sono state le ripetizioni pliometriche Ho utilizzato sempre 10 chili Ricercando anche in questo caso semplicemente Un movimento continuo Esplosivo Senza insomma andarmi a curare troppo del fatto delle gambe e cose varie Sempre per quel discorso che vi facevo prima L'ultimo esercizio del programma L'ho messo appunto ieri per la prima volta E sono piegamenti a tempo Sempre 7 minuti 15 ripetizioni ogni 20 secondi Per essere la prima volta veramente molto molto bene Ho sentito veramente una grande elasticità proprio a livello muscolare A livello di resistenza devo dire che va molto molto bene E questa insomma è stata la sessione di questa giornata Sono veramente veramente soddisfatto sotto ogni punto di vista Veramente veramente bella Sono contento di avervela mostrato Per cena invece questa porzione di pasta infornata Poi se avrò ancora fame Dato che oggi comunque è stata una giornata devastante Mi mangerò qualcos'altro In caso ve lo scriverò direttamente a fine video Senza andare diciamo a riprendere la videocamera E volevo solo dire Che cosa possiamo diciamo Carpire da questa giornata a livello alimentare Che ogni persona avrà le proprie strategie alimentari Io per dire come ho detto alcuni giorni ho digiunato Per dire ho fatto solo un passo al giorno Ma che alla fine se volete diventare dietro di veramente forti Il rotolo con la Nutella ve lo dovete mangiare Ciao ragazzi ci vediamo alla prossima